Dal 2017 Restyling Car di Gennaro Vitale ti assicuro un servizio di alto livello con personale qualificato all'insegna della qualità e della rapidità al giusto prezzo. Serata di grandi emozioni al quinto memorial dottor Michele Siani che si è tenuto lo scorso 6 luglio a Vieti sul mare. Ad aprire l'appuntamento nel pomeriggio è stata la tavola rotonda dal titolo Gestione del Post Pandemia Ci Siamo che con l'intervento di esponenti della medicina e della sanità ha fatto il punto sullo stato dell'arte della gestione della pandemia da Covid-19. A seguire nell'anfiteato della Villa Comunale di Vieti sul mare la consegna dei due premi tematici, entrambi realizzati in ceramica dal maestro Lucio Liguori. Il premio Prendersi cura con il sorriso è andato al dottor Basilio Malamisula. Io avevo un rapporto che potrei definire speciale con Michele dal momento che si interessava anche lui di bambini sul versante della lingua e atrico e quindi le nostre occasioni di contatto e di collaborazione erano tantissime. Le sue figlie sono praticamente cresciute con me e quindi sono particolarmente legato a queste ragazze. che ho visto crescere praticamente e con Michele abbiamo sempre portato avanti un discorso relativo all'umanizzazione nei reparti di pediatria e quindi mi fa particolarmente piacere ricordarlo questa sera non solo per il contributo di idee che lui ha sempre inteso darmi nella strutturazione di progetti che riguardassero l'umanizzazione delle cure in pediatria ma anche per averci creduto. Io dico sempre che le idee viaggiano sulle gambe degli uomini e da questo punto di vista le gambe di Michele e le mie sono state sicuramente forti a sufficienza a portare avanti questi discorsi che più di vent'anni fa erano abbastanza pionieristici soprattutto nella nostra provincia. Il quarto premio speciale Giovanni Battiloro dedicato a Giovanni, una delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi di Genova è stato consegnato invece a Carlo Verna per anni presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti che a Giovanni aveva assegnato il tesserino. Ma fu un gesto davvero spontaneo, immediatamente pensato perché Giovanni faceva questo lavoro quotidianamente e purtroppo non riuscì a completare il percorso per arrivare a meta per riuscire ad iscriversi all'Ordine dei giornalisti. La stessa cosa abbiamo fatto per esempio con Antonio Megalizzi il ragazzo che fu coinvolto all'attentato terroristico di Strasburgo mentre a Giancarlo Siani abbiamo dato il tesserino professionista perché lui era pubblicista peraltro proprio io gli avevo firmato la dichiarazione perché lavoravamo assieme per diventare pubblicista e aveva l'aspirazione di diventare giornalista professionista. La cosa di Giovanni è particolarmente importante perché in questa fase tanti giovani che vogliono fare la professione di giornalista incontrano tante difficoltà. Giovanni sta facendo una gincana fra tutte queste difficoltà e purtroppo poi ha trovato tragicamente la morte nella caduta del crollo del Ponte Morandi che non possiamo però definire una fatalità come spero sarà accertato nel processo. Grande commozione per l'intervento di Enzo Napoli direttore della fotografia e del cinema e del teatro mentore di Giovanni come ricordato da una clip proiettata sul video wall e dalle parole dello stesso di Napoli. Al Memorial organizzato dall'Associazione Culturale Dottor Michele Siani non sono mancati i momenti di spettacolo con la danza, la magia e la musica.